Direttamente dalle bizzarre avventure di Jojo, lui è Andrea e interpreta il barone William Zeppeli. L'escrivete la masca! L'escrivete l'escrivete! Non molti membri possono dirlo! C'è certo! L'escrivete l'escrivete! L'escrivete l'escrivete! L'escrivete l'escrivete! L'escrivete l'escrivete! Che tambino! È facile essere coccato quando sei lì sull'escrivete! Vieni e fai! Ed eccolo qua! Sinceramente io preferivo J.Lo, però va bene lo stesso anche a te, mi spiace. Attenzione al cappello! J.Lo il mio personaggio preferito. Direttamente da Steel Ball Run. Quindi un passo avanti, giuria, domande. Qualche domanda, giuria? Hai realizzato tu il vestito? No, lo sono fatto fare su misura e ho fatto giusto qualche accorgimento al cappello come fissare la striscia blu e qualche accorgimento sotto. A posto così, idee chiare, un applauso!